Un appuntamento atteso, quello del 10 aprile scorso, relativa alla gara del Monte Baiche per il percorso del castello 2022 riservato alla categoria esordiente dell'allievi. Ancora una volta il castello Manfredonico fa da cornice e protagonista un'altra bella giornata all'insegno dello sport dove hanno gareggiato tantissimi giovani atleti, oltre un centinaio, e tutto questo è stato reso possibile con il lavoro di preparazione fatto nei giorni precedenti dall'inventicabile Enzo Franciamore e la sua meravigliosa squadra, e cioè gli amici della Monte Baiche, a cui è andato il ringraziamento dell'assessore al turismo Sebilo Conte e di tutta l'amministrazione Catania. Il ringraziamento è andato anche alla Proloco, la Croce Rossa, la Dottoressa Mole, le Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e a quanti hanno collaborato per la riuscita dell'evento, ed in modo particolare agli sponsor che hanno creduto in tale manifestazione sportiva. Una giornata in cui si sono divertiti i protagonisti della gara appunto esordiente dell'allievi, proveniente da ogni parte della Sicilia, che sono stati accompagnati dalle rispettive famiglie. Una bella gara di inizio di primavera a contatto con la natura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.